è iniziato da quando la ragione ormai non riesco più a controllarlo come è possibile? hai fatto di tutto per evitarlo a quanto vuole no sta succedendo dobbiamo fare qualcosa prima che hai fatto tutto il mondo ragazzo queste sono cose che vanno oltre la capacità umana non puoi fare nulla per farlo puoi solo accettarlo andrea lasciami libero il bagno perché? che è successo? ha preso anche me grazie a tutti grazie a tutti